Io sono stata consigliera regionale della Campania nella decima legislatura del governatore De Luca e adesso sono dall'ottobre scorso consigliera comunale di Napoli. Il luogo dell'indirizzo politico e amministrativo di controllo e quindi l'impronta politica, la linea, le strategie che verranno messe in campo dovranno essere discusse e argomentate e anche lanciate, fatte nascere in questo Consiglio. Buoni gli interventi, di merito, un clima di dichiarata collaborazione rispetto ad un lavoro che è appena iniziato e che quindi ci vedrà tutti quanti insieme nei prossimi mesi ed anni dover fare la nostra parte per cercare di risollevare le sorti di questa città. Che impronta pensa di dare a questa Presidenza? Una impronta di garbo, di correttezza e equità rispetto alla dialettica democratica che mi auguro ci sarà sempre come oggi in aula e chiaramente con un richiamo a lavorare tutti quanti insieme per portare a termine obiettivi importanti per la nostra città.